Più tranquilla la situazione finanziaria degli enti teatrali di Catania. I bilanci sono quasi in pareggio, malgrado il taglio dei finanziamenti statali e regionali. Virtuosa la gestione dello stabile perché a sostenere l'attività teatrale sono gli abbonamenti che ogni anno sono in crescita. A Catania in controtendenza rispetto alle altre città italiane la cultura del teatro non conoscono arretramenti. Il pubblico ripaga subito la stagione dello stabile con l'acquisto del carnet degli spettacoli in calendario dopo l'annuncio del cartellone.